Tra poco insieme con le notizie del telegiornale partiremo dalla chiusura della campagna elettorale in Umbria. Tutti i voti sono importanti, il voto in Umbria è molto importante, ma è evidente che è il momento, il momento storico, il momento politico, perché sappiamo, insomma, è il primo vero test per la nuova maggioranza di governo, è il primo test importante per una maggioranza che oggi si presenta per la prima volta in una foto di campagna elettorale a sostegno del candidato del patto civico, Vincenzo Bianconi, ma insomma, poi alla destra e alla sinistra di Bianconi c'erano nell'ordine Speranza di Leu, c'era Zingaretti, il segretario del PD, Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle, e anche il Presidente del Consiglio, non Renzi, nessun rappresentante di Italia Viva, non si presenta il partito di Renzi in Umbria, ma insomma, si tiene fuori da questa partita, ma dicevamo, c'è una foto che li ritrae insieme ai protagonisti della nuova maggioranza in campagna elettorale, è vero, ripetiamo, a sostegno di un patto civico, ma insomma, si capisce che questo è un primo passo che porta dove? Certo, poi ci saranno altri appuntamenti elettorali importanti, la Calabria e l'Emilia Romagna, a gennaio, e quindi vedremo cosa succederà, certo le situazioni, lo hanno detto gli stessi protagonisti, sono diverse, probabilmente il patto civico non verrà ripetuto, ma è evidente che il risultato di domenica sarà importantissimo per verificare quelli che sono i rapporti dell'attuale maggioranza di governo. Ma certo è un test importante anche dall'altra parte, simmetricamente, per il centrodestra. Primo punto, Salvini con una sua candidata della Lega, la senatrice Donatella Tesei, vuole conquistare una regione rossa storicamente appartenuta alla sinistra, al centrosinistra. E allora già questo sarebbe un risultato importantissimo per il centrodestra, ma poi Salvini evidentemente punta a fare il pieno, ad incassare il massimo per la Lega e poi anche qui in direzione altri appuntamenti elettorali per arrivare al ribaltone. Già oggi tutti i protagonisti del centrodestra e quindi non solo Salvini, ma anche se Meloni e Berlusconi hanno ripetuto già dal risultato di domenica sera se il patto civico e quindi la maggioranza che sostiene il candidato Bianconi ma il governo Conte II dovesse perdere Bianconi, dovesse essere sconfitto in Umbria. Dovrebbe quindi dimettersi, trarre le conseguenze anche il governo e quindi il presidente del Consiglio Conte, che lo sappiamo, ha detto e ripetuto nei giorni scorsi, lui non considera questo invece un test per il suo governo. Non parleremo naturalmente solo di questo, non parleremo solo di politica, parleremo nel telegiornale anche di quello che è successo a Roma, perché sono stati fermati i due ragazzi accusati dell'omicidio ieri di Luca Sacchi, il giovane 24 anni che sarebbe stato ucciso perché intervenuto per difendere la ragazza, la fidanzata. Ora sulla dinamica di quello che è successo stanno andando avanti le indagini degli investigatori, sapete che ci sono state tante polemiche anche di rappresentanti autorevoli politici, ha parlato il capo della polizia lasciando intendere che ci sono elementi da chiarire. Ci sono anche notizie che riguardano l'Italia, quell'audizione in settimana del presidente del Consiglio Conte e arrivano dagli Stati Uniti, c'è la televisione Fox News che è vicina al presidente Trump e dice che quando il ministro della giustizia Bar quest'estate è venuto in Italia, ha avuto elementi di aggiornamento da parte dei nostri servizi. Questo dice una televisione americana vicino a Trump. Seguiremo nell'edizione del telegiornale e nei prossimi appuntamenti tutti gli aggiornamenti, ma insomma adesso iniziamo il Tg con i titoli tra 30 secondi. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali Umbre, Zingaretti, Speranza e Di Maio insieme sul palco manca Italia Viva di Renzi, ma c'è il presidente del Consiglio Conte, la prima foto del governo in appoggio al candidato Vincenzo Bianconi. Non mancano i distinguo sull'esperimento Umbro, per Zingaretti si può ripetere, Di Maio sottolinea invece l'aspetto civico dell'operazione, per il Premier può esserci un futuro. Tutti, compresa le EU, sono concordi, il risultato non avrà riflessi sulla tenuta dell'esecutivo. E non la pensa certamente così il centrodestra che ha scelto appuntamenti separati per sostenere la candidata Donatella Tesei. Salvini abbandona la prudenza e sente aria di vittoria, dopo l'Umbria arriveranno l'Emilia Romagna e la Calabria, poi tutte le altre regioni e riconquisteremo la democrazia e il leader leghista, poi attacca Conte per qualcuno, la pacchia è finita, dice. Sono stati fermati e sono attualmente detenuti nel carcere di Regina Celi, due ragazzi entrambi ventunenni ritenuti responsabili dell'omicidio di Luca Sacchi, a favorirne la cattura alla testimonianza della madre di uno dei giovani, ma restano ancora molti punti da chiarire. La droga non c'entra nulla, volevano il mio zaino, dice la fidanzata di Luca, ma il capo della polizia, Gabrielli, spiega che questa non è una storia di poveri ragazzi scippati. I 27 membri dell'Unione Europea sono tutti d'accordo sulla necessità di concedere una proroga al Regno Unito sulla Brexit e l'esito della riunione tenuta oggi a Bruxelles. Nessuna data, ma l'unica opzione sembra essere quella del 31 gennaio 2020. Il 12 dicembre prossimo invece è la data indicata dal premier britannico Johnson per tornare alle urne, ok da Corbyn, ma a condizione che si escluda una uscita dall'Europa senza accordo. Scatterà da luglio 2020 l'obbligo dei negozianti di accettare il pagamento digitale per evitare pesanti sanzioni nel nostro paese. I Bancomat hanno un uso limitato anche a causa delle commissioni imposte dalle banche. Nella manovra è previsto che il 30% di queste possa essere recuperato col credito d'imposta. Ok da Confesercenti e Confcommercio che però sottolineano il problema, rimangono le risorse. Buonasera e allora iniziamo questa edizione del telegiornale parlando di uno scatto, di una foto. È quella di oggi che ritrae insieme i sostenitori dell'attuale governo, del governo cosiddetto giallorosso, che si sono presentati a Narni in Umbria per sostenere il candidato del patto civico, Vincenzo Bianconi. Ma insomma in quella foto c'erano Zingaretti, Speranza, Di Maio e anche il presidente Conte. Ha dimostrazione di cosa che potrà succedere di nuovo? Vedremo. Eccola la prima foto della maggioranza di governo giallorossa. Il primo clic che immortala insieme Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza e anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'occasione per scattarla è la chiusura della campagna elettorale per le regionali in Umbria, dove PD, 5 Stelle e Leu esportano per la prima volta la coalizione che regge l'esecutivo, a sostegno del candidato civico Vincenzo Bianconi. Una sfida dura contro il centrodestra in quella che fu una roccaforte rossa, dove si vota anticipatamente dopo le inchieste che hanno coinvolto il PD e la giunta regionale di centrosinistra uscente. Manca nella foto Matteo Renzi. Italia vive il suo nuovo partito, è stato lanciato solo domenica scorsa dalla Leopolda di Firenze e in Umbria non ha presentato una sua lista. Per Renzi l'alleanza strutturale con i 5 Stelle non è all'ordine del giorno. Esperimento più che rodaggio, anche in vista delle prossime tornate regionali. Testa ad alto rischio. Così distingo le cautele non mancano. I protagonisti ci mettono la faccia, ma mettono anche le mani avanti. Per Conte la coalizione ha un futuro. Noi procediamo tutti insieme. Ci siamo. Con sensibilità, coraggio, determinazione. E ci saremo anche dopo, dopo questa competizione elettorale. Ma poi il Premier fa precisare dal suo staff. È un progetto politico nuovo, che ha una prospettiva a prescindere dall'esito del voto umbro. Luigi Di Maio insiste sul profilo civico del candidato a governatore. Condizione posta dai 5 Stelle per allearsi in Umbria con il PD. Quindi aggiunge... Io non credo che voi possiate permettere a nessuno di usare l'Umbria come un trofeo elettorale da agitare lunedì. Puntualizzazione che è anche di speranza, che pure scommette sul fatto che l'alleanza non sia una parentesi. L'Umbria è una regione importante, ma è un voto territoriale che non ha un'influenza diretta sul governo. Il governo deve rivendicare quello che Di Buono ha fatto. Per Zingaretti l'asse con i 5 Stelle si può riproporre, anche se restano le differenze per il bene dell'Italia. E bisogna farlo a partire dai territori. Lo dice Nicola Zingaretti, presidente di una regione, che è presidente perché un anno e mezzo fa nella regione ha costruito un percorso. Quanto a Renzi, Zingaretti assicura, nessuna polemica. Ma poi è attento a sottolineare che lui oggi non c'è, ma che Teresa Bellanova, Italia Viva, la campagna elettorale in Umbria l'ha fatta. Come a dire, qui si perde o si vince tutti insieme. Nessuno pensi di chiamarsi fuori. Allora, nessuno pensi di tirarsi fuori. L'esito del voto non peserà. Ovviamente questa è la versione di chi nella maggioranza oggi sta. Dall'altra parte la pensano in modo opposto, naturalmente. A partire, per esempio, da Giancarlo Giorgetti, che poco fa, nel pomeriggio, intervenendo ad un appuntamento, ha detto che, secondo lui, ripercussioni ci saranno, ma dando una chiave di lettura dicendo che ci sarà un passaggio di consegne a Palazzo Chigi. E cioè che, secondo lui, andrà a sostituire Giuseppe Conte e Mario Draghi. Chi dice pezzo possa subentrare, dice esattamente Giorgetti, alla Presidenza del Consiglio. È una notizia verosimile che gira negli ambienti politici romani. Tutti vedono il governo, in particolare il Presidente del Consiglio, molto in difficoltà, con reazioni estemporanee non in linea. Giorgetti dice che ci saranno questo tipo di ripercussioni. Secondo Salvini, Conte e Meloni, invece, dopo il voto Umbro, in caso di successo della Tesei, candidata del centrodestra, invece è proprio tutto il governo che deve andare a casa. La foto di famiglia del centrodestra è riesumata, ma per la chiusura della campagna elettorale per Donatella Tesei ognuno va per proprio conto, evitando così una riedizione delle polemiche romane di Piazza San Giovanni. Salvini presidia da settimane il territorio e va all'attacco di Conte. Gli daremo una bella lezione, visto che si è montato la testa e il ciuffo e lunedì tornerà con i piedi per terra. Domenica sera vorrei essere una zanzara per essere nella camera di Giuseppi. Lo vedo molto suscettibile il signor Conte in queste settimane, probabilmente ha capito che per lui la pacchia sta finendo. Torna la pacchia in esaurimento nel lessico dell'ex ministro che ipoteca la vittoria e manda avanti Roberto Calderoli nel dire che dopo Narni il governo, se perde, deve dimettersi. Così la Lega, che insieme ai Fratelli d'Italia, torna sulla questione ONG e attacca la neoministra dell'Interno, la Morgese. Davvero invita al Viminale le organizzazioni non governative? Non ho parole, dice Salvini. Scandaloso, aggiunge la Meloni, che poi torna sull'obiettivo Umbria. Lunedì sarà ancora più chiaro che i cittadini italiani non vogliono essere governati da queste persone, vogliono potersi liberamente scegliere un governo, come accade in tutto il mondo. È il profumo della vittoria annunciata che fa accantonare ogni prudenza, perché dopo l'Umbria arriveranno a gennaio Emilia, Romagna e Calabria. E poi entro la primavera Toscana, Marche, Campania, Puglia, Liguria, Veneto. Una lunga marcia di riconquista della democrazia, dice Salvini, che trova anche l'alleato Berlusconi pronto a sostenere come l'Umbria valga anche solo simbolicamente Palazzo Chigi. Questo voto importantissimo per i cittadini dell'Umbria avrà un significato simbolico certamente anche per il governo italiano. Significato simbolico, dice Berlusconi, che lancia la raccolta firme antitasse e poi si sbraccia nell'importanza di fare coalizione e di essere uniti, perché si vince tutti insieme. Salvini in cassa, ma non replica. Sono stati arrestati questa notte a Roma i due ragazzi accusati di aver ucciso ieri Luca Sacchi, il giovane che sarebbe intervenuto per difendere la fidanzata aggredita dai due. Sulla dinamica esatta, in realtà sono ancora in corso accertamenti, in particolare che c'è qualcosa da chiarire, lo ha fatto capire il capo della polizia, Gabrielli. E poi intorno a questo episodio, come sappiamo, ci sono state durissime polemiche politiche. Gli hanno presi nella notte. Uno era nascosto in un albergo, l'altro sulla terrazza di un condominio. Non hanno fatto resistenza. Hanno 21 anni. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due ragazzi romani di San Basilio, ragazzi di malavita. Uno ha precedenti per percosse, l'altro per droga. Gli investigatori non hanno dubbi. Sono i responsabili della morte di Luca Sacchi, il giovane insegnante di fitness, ucciso mercoledì notte nella capitale davanti a un pub, nel quartiere Appio Latino, di fronte alla ragazza con un colpo di pistola alla nuca. Nell'interrogatorio in questura, i due hanno fatto scena muta, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono stati fermati, con l'accusa di concorsi in omicidio volontario, rapina aggravata, porto abusivo d'arma e portati in carcere a Regina Celi. Abbandonati in un campo, è stata trovata la mazza da baseball con cui avrebbero iniziato la rissa, colpendo la fidanzata di Sacchi. Poi sarebbero tornati con la pistola, una 38, che non ancora è stata trovata. A sparare sarebbe stato Del Grosso. È stata la madre a denunciarlo, si è presentata nel cuore della notte in caserma. Mio figlio ha fatto una cosa gravissima. Le indagini, svolte in tandem da polizie e carabinieri, erano già arrivate a loro. Bruttissima storia. Il movente è ancora poco chiaro. Forse aggressori e vittima si conoscevano all'origine. Dicono gli investigatori, ci sarebbe uno scambio di droga, con molti soldi in gioco, forse uno sgarro. È stato lo stesso capo della polizia, Franco Gabrielli, a gettare ombre su tutta la vicenda. Le cose che l'autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno, non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati, dice, lasciando intendere che non tutta la verità è ancora venuta fuori. La droga non c'entra niente, dice Anastasia, la fidanzata di Sacchi. Luca era un atleta, non faceva uso di droga, ribadiscono i familiari della vittima che hanno deciso di donare gli organi. Le indagini proseguono. Il mio assistito è molto provato. Intende chiarire, dice in serata l'avvocato di Del Grosso. Potrebbe rispondere alle domande domattina nell'interrogatorio di convalida da parte del GIP. E poi dobbiamo parlare di altre notizie che riguardano la politica italiana, ma aggiornamenti che arrivano dagli Stati Uniti e riguardano il caso Russiagate. L'altro ieri, nei giorni scorsi, l'altro ieri, l'audizione, sappiamo, del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in commissione, il Copasir, la commissione parlamentare che vigila sui servizi, sulla sicurezza. E Conte, in quell'occasione, ha detto di non aver mai parlato con Trump del Russiagate, di quelle mail usate o meno da Trump in campagna elettorale, mail di Hillary Clinton. Ma poi ha negato anche che durante l'estate, quando è venuto qui il Ministro della Giustizia Barra, abbia avuto contatti con i nostri servizi segreti. Ecco, proprio oggi Fox News, che è un network, una televisione vicina a Trump, dice invece che proprio questo è successo. è un salto di qualità il passaggio ad inchiesta penale dell'indagine del Ministro della Giustizia americano, William Barr, sulle origini del Russiagate. Porterà maggiori poteri al procuratore incaricato da Barr, John Durham, indagini più lunghe e dettagliate e anche possibili nuove ricadute sulla posizione già scomoda dell'Italia nel ginepraio dell'inchiesta americana. Con una certezza sul presunto complotto ai suoi danni, Donald Trump vuole andare fino in fondo e in ballo c'è l'impeachment e quindi la rielezione nel 2020. È stato lo stesso Trump a parlare di un coinvolgimento dell'Italia nel dossier. Trump che nel pomeriggio di oggi dice di non sapere nulla della nuova inchiesta giudiziaria che invece scatena la dura reazione dei democratici. Temono si tratti di un diversivo e di una micidiale arma di vendetta in mano agli uomini del Presidente. E un primo assaggio della mossa di Barr lo ha servito Fox News proprio a Roma. L'emittente americana molto vicina a Trump riferisce che nei due ormai famosi incontri a Roma del 15 agosto e del 26 settembre scorsi Barr e Durham avrebbero fatto nuove scoperte in quel viaggio ricorda la Fox i due hanno incontrato dirigenti dei servizi dell'intelligenza italiana e qui in quell'occasione avrebbero raccolto nuove prove in grado di allargare l'indagine. Circostanza subito smentita mai dato alcuna prova ribadiscono fonti dell'intelligenza italiana in ogni caso se la ricostruzione della Fox fosse confermata entrerebbe in contraddizione con la versione data da Giuseppe Conte due giorni fa al Copasir il premier italiano ha sì confermato gli incontri tra americani e servizi a Roma ma limitandoli ad una mera ricerca di archivi senza nessuna attivazione dell'intelligenza italiana e nessuna indagine sull'attività del governo nel 2016 a mettere Conte in una posizione delicata è anche la lettera di cui parla il Corriere della Sera inoltrata a Conte dall'ambasciatore a Washington Armando Berricchio per autorizzare l'incontro dei due inviati di Trump con il capo dei servizi segreti italiani Gennaro Vecchione e della quale Conte non informò la farnesina Vecchione che partecipò ad entrambi gli incontri romani sarà sentito dal Copasir martedì a soli due anni dal voto in Gran Bretagna allora voluto dalla Premier Theresa May per rafforzare la sua maggioranza e accelerare sulla Brexit oggi torna a chiedere le elezioni il Premier Boris Johnson e gli dice di sì il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn condizionandolo però una condizione che dice Corbyn votiamo sì solo se poi si fa una Brexit con l'accordo e dalla parte dell'Unione Europea arriva la disponibilità a concedere una nuova proroga allo stato attuale possiamo ancora uscire il 31 ottobre ha parlato così oggi il Premier britannico Boris Johnson ma sa benissimo che ormai l'unica possibilità che la Brexit si realizzi entro fine mese risiede nel concretizzarsi dello spettro del no deal e che solo l'Unione Europea attraverso un diniego alla richiesta di proroga giunta da Londra potrebbe mettere in moto questo meccanismo nel frattempo il primo ministro è tornato alla carica per giungere ad elezioni anticipate proponendo ai parlamentari una sorta di scambio io vi do il tempo necessario all'approvazione del pacchetto di leggi attuative dell'uscita del Regno Unito dall'Unione ma voi mi concedete nuove consultazioni probabilmente il 12 dicembre lunedì Johnson presenterà una mozione in tal senso perché passi serve la maggioranza dei due terzi ma il leader laborista Corbyn ha già detto che per votarla vuole garanzie che in nessun caso si arriverà al no deal in attesa di capire come evolverà la situazione il governo ha sospeso la presentazione della legge di bilancio prevista per il prossimo 6 novembre e proprio gli sviluppi interni al Regno Unito stanno facendo slittare la decisione sulla proroga con l'Unione Europea che tatticamente prende tempo non è arrivato oggi infatti l'atteso via libera dalla riunione degli ambasciatori dei 27 ma non è arrivato non certo perché i paesi membri non siano concordi sulla necessità di concedere al Regno Unito un'altra estensione bensì perché persistono le divisioni tra chi Francia in testa vorrebbe solo un breve rinvio tecnico per consentire ai comuni di approvare la legislazione attuativa della Brexit e l'accordo negoziato da Johnson posizione in qualche modo rafforzata dalle mosse del primo ministro e chi a partire dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk propende per spostare il termine al 31 gennaio alla fine però salvo clamorose sorprese Londra avrà più tempo anche se il via libera giungerà solo in extremis con la procedura scritta che potrebbe partire tra martedì e mercoledì e concludersi 24 ore più tardi ecco perché il cancelliere dello scacchiere Javid oggi ha smentito quanto affermato dal suo premier sostenendo che la Brexit non potrà essere portata a termine entro il 31 ottobre Situazione che rimane difficilissima in Libano dove un avvertimento ai manifestanti in piazza che manifestano contro il governo lo ha spedito il leader dei Hezbollah Nasrallah ha detto siamo pronti a confrontarci su un piano di riforme ma di far cadere il governo non se ne parla perché si rischierebbe la guerra civile è il suo avvertimento che sembra tanto una minaccia come suo costume lo scecco scita libanese Sayed Hassan Nasrallah capo spirituale e politico del partito di Dio Hezbollah è chiaro nelle sue affermazioni e nelle accuse dirette ai suoi nemici dichiarati oggi ad esempio in un messaggio al popolo libanese Nasrallah ha chiesto chi ci sia dietro la protesta chi sta pagando decine di migliaia di libanesi per mettere all'angolo il governo di Saad Ahlili la presidenza di Michelle Ayun e lo stesso movimento filo iraniano Hezbollah alleato di governo e tra i poteri forti nel paese dei cedri la risposta l'ha data lui stesso all'origine di tutto ci sarebbero paesi del Golfo Stati Uniti ed Israele sulla scia evidente di quanto sta accadendo in un fazzoletto di terra mediorientale con la crisi turco-curdo-siriana destabilizzazione quindi guidata e riferita ma non ci saranno a breve nuove elezioni né tantomeno di missioni dei vertici del paese troppo rischioso tutto troppo facile immaginare scenari da guerra civile in una terra che ci ha vissuto per decenni in quella realtà ma lo scontro tra chi in strada a Beirut chiede giustizia ed equità e chi è vicino al governo e al partito di Dio è fisicamente iniziato in queste ore a Riyad Sol in piano centro a colpi di sassi e bastoni pugni e calci frenato solo da quelli dell'antisommossa l'autunno libanese poi si arricchisce oggi sempre grazie a Nasrallah dell'impegno di Hezbollah a guidare il paese verso la fine del sistema politico confessionale con mezzi pacifici e nel rispetto della costituzione libanese la stessa a cui si appellano anche i vertici militari altro potere forte nel paese la libertà d'espressione dicono sarà garantita ma dalla piazza ci si attende una moderazione che non violi le altrui di libertà moderazione difficile da immaginare visti questi primi nove giorni di ribellione civile che iniziano a sentirsi anche in termini pratici c'è preoccupazione ad esempio per le decine e decine di blocchi stradali che stanno creando problemi alla grande distribuzione di materie prime e alla regolarità dei servizi essenziali nonostante gli appelli la protesta proseguirà e l'allerta dei militari crescerà con lei in Italia il dibattito politico non verte solo intorno alle elezioni in Umbria ma si continua a discutere anche sulla manovra ci sono più tasse ci sono tasse sì o no e allora oggi Salvini rilancia come no per esempio sulla plastica inciderà sull'aumento dei prezzi al 10% di tanti altri prodotti dall'altra parte dal PD in particolare arriva la replica sono invenzioni noi in realtà abbiamo evitato l'aumento dell'IVA che con il governo quando Salvini era al governo invece avrebbe comportato un aumento di quasi 500 euro all'anno a famiglia scontro politico e intanto emergono nuovi dettagli dalla bozza del decreto fiscale quello collegato alla manovra vediamo cosa c'è dentro primo luglio 2020 per il contante italiano sarà un colpo duro le multe ai negozianti che non accettano i banco ma entreranno in vigore e con esse dovrebbe scattare anche un sostanzioso incentivo all'uso della moneta elettronica la manottesa di Palazzo Chigi al mondo del commercio nel programma più generale di lotta all'evasione e infatti nell'ultima bozza del decreto fiscale conosciuta ci sarebbe un credito d'imposta del 30% delle commissioni dovute dagli esercenti per le transazioni con carte e tessera bancomat ma solo per le piccole attività con ricavi e compensi entro i 400 mila euro annui il beneficio potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con quanto dovuto al fisco e la grande distribuzione sarebbe esclusa dal provvedimento il piano del governo mira col mare il ritardo italiano è vero che l'anno scorso da noi il numero di pagamenti fatti con moneta elettronica è cresciuta del 6,8% in accelerazione rispetto all'anno precedente ma la media annua italiana per ogni apparecchio POS è di 1.373 strisciate contro le 7.000 del Regno Unito le 6.000 in Francia 3.000 in Germania per non parlare delle 14.000 in Olanda il credito d'imposta per ridurre le commissioni va bene ha commentato Confcommercio il problema semmai sono le risorse quasi 27 milioni di euro per il 2020 e poco meno di 54 milioni a regime mentre ogni anno accettare i pagamenti elettronici costerebbe alle imprese secondo l'associazione un miliardo e mezzo di euro d'accordo anche la Confesercenti che chiede in aggiunta l'eliminazione delle sanzioni per chi non ha il POS e il rinvio della lotteria degli scontrini un obbligo che richiederebbe nuovi registratori di cassa con un costo per i commercianti di circa 300 milioni di euro come si dice oggi giornata difficile per chi usa i trasporti pubblici i mezzi di trasporto pubblici problemi un po' in tutta Italia in particolare nelle città di Milano e Roma a Roma polemica durissima contro chi ha scioperato da parte della sindaca Raggi sostenuta appoggiata anche dal capo politico del movimento di Maio ha detto i cittadini romani sono stufi di questi scioperi sempre di venerdì una insinuazione ritenuta inaccettabile dai sindacati che hanno replicato chiedendo le dimissioni di Raggi aerei treni mezzi locali ai disagi di questo venerdì nero per lo sciopero organizzato dai sindacati si aggiunge anche la polemica politica l'astenzione di piloti assistenti di volo e personale di terra hanno portato alla cancellazione di 240 voli nazionali e internazionali di Alitalia che però ha assicurato le due fasce orarie di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 Trenitalia ha fatto sapere di aver garantito la circolazione dell'alta velocità e la quasi totalità dei treni regionali a Napoli ferme la linea 1 della metro e le funicolari la città è rimasta paralizzata per 4 ore dalle 11 alle 15 poi ha ripreso a muoversi qualche disagio anche a Milano dove lo stop dei treni è iniziato ieri sera alle 21 stamattina si sono fermati per primi tram e bus uno stop che tranne la fascia di garanzia dalle 15 alle 18 prosegue fino alla fine degli orari di servizio in piazza anche la protesta per stipendi e pensioni con i lavoratori aderenti a cuba e sgb che hanno scioperato per chiedere l'aumento dei salari l'abbassamento dei carichi di lavoro e la cancellazione di jobs act e legge fornero e sempre a Milano l'effetto annuncio ha spinto molti cittadini a usare l'auto questo ha causato più di un ingorgo soprattutto in centro ma gli effetti più negativi di questo venerdì di protesta si sono sentiti a Roma dove a incrociare le braccia sono state anche le municipalizzate con lo stop di 7500 dipendenti dell'AMA l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti l'adesione ha toccato quasi il 40% e la raccolta in strada ne ha risentito e così la protesta generale si trasforma in un grito di rabbia contro l'amministrazione 5 Stelle contro il movimento capitolino anche le opposizioni del PD proprio nella giornata che ha visto i giallorossi in Umbria sostenere insieme il candidato per la chiusura della campagna elettorale piazza del Campidoglio però non era stracolma di gente e Virginia Raggi ha accusato una minoranza di sindacalisti di tenere in ostaggio l'intera città basta scioperi ingiustificati ha scritto su Twitter ancora più duro il capo politico Luigi Di Maio sono sempre dalla parte delle manifestazioni per il diritto al lavoro ma questa storia di scioperare il venerdì per il weekend lungo e indecente dopo il telegiornale 8 e mezzo ospiti di Lilli Gruber sono Silvia Sciorilli Borrelli Massimo Giannini Vittorio Sgarbi a seguire l'appuntamento del venerdì con Diego Bianchi e la sua propaganda live noi ci rivediamo per gli aggiornamenti tra qualche minuto dopo la pubblicità di nuovo in studio con i dati sull'ultima giornata dei mercati e allora chiusura di una settimana senza grandi scossoni però chiusura in positivo come vedete più 0,36 per Milano e siamo invece a 132 punti base per quanto riguarda lo spread per quanto ci riguarda è tutto prossimo appuntamento con le notizie e con il telegiornale della notte vi auguro un buon proseguimento di serata